secondo posto per la prima a di ho solo poche indicazioni, ho scritto scuola media viola ahahahahahah ma non è l'altro in mezzo che ti scopo ma non è l'altro in mezzo che ti scopo ma non è l'altro in mezzo che ti scopo ma non che ti scopo e quando mi siete tratta e quando mi sono tratta con scatti e se vedi qualche sonta Sì, la figata! Sì, la figata! Sì, la figata! Mi guardo, si le hanno visto! Mi faccio molto bene! Uno... E' la prima! La cruda! Oh! Oh, no! Giusto il calcio E non è più grande Non è più grande Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti